Buongiorno da Fittia Online, avvio incerto questa mattina per la borsa dopo i rialzi di ieri, se andiamo a guardare il nostro Fussimib, infatti lo troviamo in caldo dello 0,4% circa siamo intorno ai 22.400 punti, abbiamo le quotazioni che si muovono come si vede dai minimi di fine maggio all'interno di questo canale sostanzialmente laterale, un canale come questo può anche dimostrarsi a posteriore, un flag quindi una figura di continuazione del precedente trend ribassista sarà quindi molto importante dopo il segnale di forza visto ieri con il superamento dei massimi di inizio giugno, che le quotazioni si lasciano alle spalle anche il lato alto del canale intorno ai 22.580-590 punti per scongiurare il rischio di essere in presenza di una figura di continuazione, oltre a quei livelli, buoni spazi di crescita 23.5-23.750 come primi obiettivi, la mancata rottura di 22.6 però potrebbe comportare la ricopertura del gap che abbiamo visto aprirsi l'11 giugno intorno ai 21.500 punti, quindi un riattraversamento di tutto il canale verso la sua base, a quel punto ovviamente se poi dovesse esserci anche la violazione della base avremmo il rischio di un ribasso di 1000 punti circa. Comunque ancora tutto da definire, quindi questi sono i due scenari, purtroppo in questo momento è difficile propendere per l'uno o per l'altro, in questa ottica oggi abbiamo preparato un intervento che sarà relativa all'analisi dei titoli dell'intero Fuzzimib, qui vedete una tabella dove sono riportati in ordine decrescente di coefficiente media varianza i titoli del Fuzzimib con anche la valutazione per l'indice, si tratta di valutazioni che vanno da 1 a 10 punti massimo, con ovviamente quelle più alte che sono quelle più interessanti, sempre in appunto di media varianza o rendimento pesato per il rischio, questa ovviamente è una fotografia della situazione attuale, però diciamo che i titoli che sono meglio impostati in questa fase sono quelli probabilmente che sono destinati a proseguire forse con un qualche distingo che vedremo tra poco, anche nell'immediato futuro. Ovviamente come sempre quando si guardano queste classifiche si può ragionare anche in ottica contraria, quindi oltre a considerare come interessanti i titoli che sono nelle prime posizioni della lista, si può andare anche a guardare come si comporteranno nel prossimo futuro quelli nelle posizioni invece terminali da Mediolanum, Banca Generale, Azimut e quindi vediamo tutti i titoli del risparmio gestito che potrebbero anche andare incontro ad un rimbalzo, ovviamente è molto rischioso comprare solo sull'aspettativa di rimbalzo, meglio metterli nel mirino e attendere che poi si verificano effettivamente dei segnali di ritorno di forza. Questa lista la caricherò poi dopo sulla nostra pagina Facebook in modo che la possiate poi consultare con tranquillità. Adesso andiamo a guardare i primi titoli, le prime posizioni della nostra lista, vi faccio notare prima di tutto che il valore per l'indice Fuzzimib in questo momento è di 2, quindi se fosse un titolo si collocherebbe nella parte più bassa della classifica evidentemente in questo momento se andiamo a guardare l'andamento storico nonostante il tentativo di rimbalzo negli ultimi giorni il Fuzzimib ancora non gode certo di una buona salute. Questi sono i sei titoli che sono le prime sei posizioni, ho corredato il grafico con l'oscillatore RSI a 14 sedute, un indicatore che ci dice la forza residua della tendenza in un paio di situazioni in particolare se andiamo a guardare la condizione di Campari e quella di Ferrari ci accorgiamo che l'indicatore ha sconfinato nettamente in zona di ipercomprato, anche nel caso di STM inizia a fare diciamo a Campolino una situazione di ipercomprato. Chiariamo subito una cosa prendendo come esempio Campari, non è lo sconfinamento in zona di ipercomprato che corrisponde all'inizio di una fase necessariamente di debolezza, anzi il contrario, andiamo a guardare che cos'era successo qui nel mese di ottobre, come vedete quando c'è il passaggio in zona di ipercomprato il titolo può tranquillamente continuare ancora a salire, è quando c'è il rientro all'interno della zona neutrale, quindi a di sotto del 70% che di norma si va incontro ad una flessione, questo è successo sia nel mese di ottobre ma anche se andiamo a guardare in misura minore con questo sconfinamento più ridotto nel mese di novembre dove all'uscita ipercomprato ha fatto seguito il raggiungimento di un nuovo massimo, poi quando siamo ritornati al di sotto del 70% invece è partita una correzione, questo quindi che cosa ci dice? Che chi avesse il titolo in mano può tranquillamente mantenerlo, ha maggior ragione se le quotazioni riusciranno a stabilizzarsi al di sopra di area 6,95, infatti nelle ultime due sedute c'è stato un evidente rallentamento in corrispondenza di questi livelli, un potenziale tweezertop ma per il momento appunto solo potenziale, se ci sarà la rotta del 6,95 si potrà continuare a scommettere sul rialzo del titolo, guardando però con attenzione l'evoluzione anche delle Versailles perché se questo dovesse poi ritornare in campo neutrale sarebbe quello il momento per abbandonare le posizioni almeno temporaneamente. Quali potrebbero essere i target del rialzo nella situazione attuale, vedete che nelle ultime due sedute c'è stato il superamento verso l'alto del lato alto di questo canale crescente, la proiezione del canale dal punto di rottura ci fornisce un'idea di quello che potrebbe essere il prossimo target che si colloca intorno ai 7,30 euro, oltre quei livelli 7,60-65, sotto 6,70 probabilmente avremmo anche l'RSI che torna in zona neutrale e diverrebbe possibile un ritorno verso la base del nostro canale crescente intorno ai 6,20 euro. Facciamo lo stesso ragionamento anche su Ferrari, nel caso di Ferrari ieri c'è stata una ulteriore accelerazione rialzista con anche come vedete un incremento di volumi, quindi tutto diciamo come ci si può aspettare, non ci sono per adesso problemi sull'evoluzione in crescita, resta il fatto che anche in questo caso abbiamo questa situazione di ipercomprato che non va sottovalutata. Vedete come qui nello scorso anno, tra luglio e agosto, l'ipercomprato si era protratto per diverse settimane prima di venire effettivamente riassorbito, infatti nel momento del rientro dell'ipercomprato in situazione neutrale sarà poi sviluppato questo piccolo doppio massimo con il titolo che aveva subito una marginale flessione. Nel caso di Ferrari abbiamo il movimento di ieri che ha comportato il superamento del lato alto di questo canale, quindi analogamente a quello che abbiamo appena fatto possiamo prendere la misura del canale, proiettarla verso l'alto e ottenere il nostro prossimo target che si colloca intorno ai 140 Euro. La media mobile esponenziale a 20 giorni che ci dà come sempre una buona percezione di quello che è il percorso del trend, si colloca intorno a 116-116,20. Se dovessimo vedere le quotazioni nuovamente al di sotto dei massimi del 7 di maggio a 118,70 ci sarebbe il rischio di vedere i test della media. Come sempre vi suggeriamo quando facciamo queste carrellate poi di utilizzare il nostro mega trader, il sistema di analisi tecnica sviluppato in collaborazione con Trend Online per seguire l'andamento dei titoli, ad esempio nel caso di Ferrari vedete che la posizione è long dal 4 giugno e viene inoltre indicato uno stop loss per chi avesse la posizione in essere a 123,45 Euro. Quindi come sempre il mega trader è uno strumento ottimo non solo per la selezione dei titoli ma anche poi per seguire le posizioni in essere. L'ultimo titolo che abbiamo in condizione di ipercomprato anche se appena accennata è STM, su STM abbiamo registrato nel corso delle ultime sedute il superamento di questa forte resistenza, il massimo del novembre dello scorso anno a 21,59 Euro, vedete che era stato toccato anche nella parte iniziale del mese di giugno, adesso i prezzi stanno accelerando verso l'alto, c'è tanto spazio ancora a disposizione per salire, vedete come il rialzo attuale si sia appena lasciato alle spalle il 23,6% di risalciamento del ribasso dei massimi del 2000, un target in medio termine a 31 Euro, quindi pare abbastanza credibile, gli aggiustamenti di breve ovviamente potrebbero comportare anche una flessione, magari un return move proprio in area 21,40, 21,50, ma l'impostazione di fondo penso che potrà essere tranquillamente mantenuta al rialzo, se uno volesse poi seguire il titolo per avere indicazioni di breve termine, vedete come si comporta bene la trendline che abbiamo disegnato sull'RSI, può seguire tranquillamente l'evoluzione di questa trendline e andare a chiudere eventuali posizioni di rialzo solo se l'RSI tornerà al di sotto della sua trendline. Adesso passiamo invece a Luxottica, altro titolo dalla buona impostazione grafica, soprattutto nella seduta di ieri c'è stato un segnale interessante perché abbiamo registrato il superamento del massimo del 28 maggio che era stato toccato a 55,30 Euro, vedete tra l'altro come in quell'occasione quando i prezzi il 28 maggio abbiamo toccato quel massimo, poi c'è stato un brusco dietro fronte e una chiusura molto lontana dai valori massimi, quindi da 55,30 la chiusura è stata a 53,86, ieri invece abbiamo registrato una chiusura molto più alta a 55,56 Euro, siamo in una situazione ancora di correzione rispetto al ribasso che abbiamo visto dai massimi del 2015, ma ci stiamo avvicinando alla resistenza del 61,8% di retracement che è quindi il prossimo target intorno ai 57,10 Euro, 57,20 Euro. Una rottura anche di quei livelli sarebbe un segnale decisamente incoraggiante perché trasformerebbe il movimento di rialzo che per adesso in un'ottica di medio e lungo termine ha ancora connotati correttivi in una vera e propria inversione di tendenza e quindi con la possibilità di ritornare almeno sui massimi dai quali proveniamo. Nel breve come notate la resistenza da battere è quella di 55,80 Euro, lato alto di questo canale crescente. Passiamo adesso a Moncler, titolo di cui abbiamo parlato spesso nel recente passato, ce ne sono state anche alcune notazioni un po' polemiche nel riguardo all'analisi di Moncler perché ci veniva segnalato come le valutazioni fondamentali su questo titolo ormai non abbiano più una rispondenza con la situazione dei prezzi, l'osservazione è sicuramente corretta, notiamo però che il titolo per il momento sembra non interessarsi della valutazione fondamentale e continua a salire seguendo il gradiente indicato dalla sua media mobile a esponenziale a 20 giorni, la media passa a 39,80 fino a che saremo al di sopra di quei livelli, possiamo rimanere tranquillamente con un'ottica rialzista, fermo restando che siamo consapevoli del fatto che il titolo ha già corso molto nel recente passato, il lato alto del canale che possiamo disegnare dai minimi di febbraio si colloca in questo momento intorno ai 43,50 Euro, quindi il primo target per il rialzo è proprio su quei livelli. Come vi ho già detto invece la violazione della media mobile a 20 giorni esponenziale intorno ai 39,60 Euro, 39,70 Euro, comporterebbe un segnale di debolezza da non sottovalutare. Veniamo infine a Ferragamo che è una posizione di rincalzo rispetto alla nostra lista, infatti se andate a vedere è il primo titolo che ha una valutazione di 5 punti su 10, però graficamente resta sicuramente interessante, in particolare se andiamo a guardare c'è questa linea di tendenza che parte dal massimo di maggio e che passa a 25,25 Euro circa, se questa dovesse venire superata la fase che si è sviluppata nel corso delle ultime settimane potrebbe venire considerata un flag correttivo, del resto come è possibile notare veniamo da un'indicazione positiva abbastanza interessante che è il completamento di questo doppio minimo che si era registrato tra novembre e dicembre dello scorso anno, vedete c'è stato il completamento del doppio minimo, un primo allontanamento da quei livelli, la flessione successiva per il momento si è dimostrato solo un return move al lato alto della figura, quindi abbiamo avuto rialzo, flessione correttiva per adesso come dicevo contenuta nell'ambito di questa zona laterale, il superamento della linea di tendenza quindi ci segnalerebbe la possibilità di un recupero di forza con la prospettiva di andare almeno a prendere il target del doppio minimo che si posiziona vicino ai 27 Euro, se dovessero scendere invece al di sotto di area 24 e 50 e 60 con una conferma in chiusura di seduta, allora in quel caso potremmo assistere nuovamente ad un test di area 23 e 50. Per solitare andiamo a vedere se ci sono domande da parte vostra, c'è un interesse su Jeff Fran, andiamo a vedere se riusciamo rapidamente a recuperare il grafico del titolo, ecco abbiamo qui il nostro titolo, c'è un segnale che salta subito all'occhio la rottura nella seduta di ieri di questa linea di tendenza, un segnale decisamente incoraggiante, andiamo a vedere la nostra media mobile, sia quella a 20 giorni che ormai è stata lasciata alle spalle, ma anche quella a 50 giorni che penso sarà ormai vicina alle quotazioni, vedete anche la media a 50 giorni esponenziale era praticamente coincidente con la trend line che abbiamo disegnato e anche questa è stata superata ieri, vale 8 Euro e 16, fino a che rimarremo in chiusura di seduta di sopra di quei livelli, si potrà continuare ad ipotizzare il proseguimento del rimbalzo. Primo target intorno al 50% di retracement della discesa precedente a 9 Euro e 37, successivo intorno ai 10 Euro. Quindi anche Geffra è un titolo che in questo momento vale sicuramente la pena di seguire con attenzione. Vi ringrazio per la vostra partecipazione, vi comunico che settimana prossima il servizio sarà sospeso per una settimana e ci vedremo quindi il lunedì successivo nuovamente in diretta. Grazie ancora e buona giornata. Grazie. 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 Grazie.